Presidente Torchia, chiaramente come consorzio oltre a parlare di acqua dobbiamo parlare anche di agricoltura perché i due settori sono collegati. Qual è la situazione oggi, in questi primi giorni del 2023? Non è molto positiva perché il mercato non sta rispondendo. C'è pochissimo consumo a livello forse europeo, sicuramente a livello nazionale, quindi alcuni prodotti che andavano nel periodo invernale stanno avendo un fermo, mi riferisco agli ortaggi di qualunque tipo, c'è difficoltà a fornirli, poi noi siamo la parte periferica dello stivale e quindi da noi vengono solo quando non c'è produzione da altre parti. Teniamo conto che il tempo è stato molto mite in questo inverno in tutta Italia, quindi in tutte le altre regioni ci sono state forti produzioni e quindi ne stiamo pagando le conseguenze. Dobbiamo anche dire che i cambiamenti climatici hanno già fatto fiorire tante piante e tanti prodotti agricoli, quindi significa che quel sistema che ci portava a fare delle scelte in base anche alla stagione, oggi è passato in secondo piano. Sì, le temperature mite la pianta riconosce, non capisce più, diciamo, perde il buonsenso e i fiori partono, diciamo, la capacità di rigenerarsi, dopodiché arriverà una settimana di tramontana, arriverà il freddo che porterà a far cadere i fiori e quindi a danneggiare in un certo qual modo il ciclo di produzione. Per quanto riguarda, abbiamo grossi problemi anche proiettati nel futuro, per quanto riguarda l'irrigazione, l'acqua, perché non sta piovendo, anche oggi che sembrava che potesse finalmente arrivare la tanta attesa pioggia, ma sta passando senza che essa sia venuta. Abbiamo problemi, credo, anche se non li gestiamo come consorzio nei laghi silani, perché a novembre, come si ricorda, erano praticamente a zero. Non mi pare che da 9 dicembre e gennaio, quello di gennaio che stiamo passando, si stia rivelando particolarmente piovoso e quindi ci sono questi problemi.